Musica Si è rinnovato anche in questo 2017 a Umberti del sudalizio tra i Lions Club e la scuola media Mavarelli Pascoli con il concorso Un Poster per la Pace 130 ragazzi che si sono cimentati con matite e colori per realizzare un poster sul tema della pace la selezione del club Umbertidesa alla quale hanno partecipato il presidente del Lions Club Umberti De Rolando Pannacci la dirigente scolastica professoressa Maria Gabriella Bartocci e gli insegnanti di arte e immagine professoressa Giuliana Agostinelli e professor Maurizio Albanesi ha permesso di scegliere tre lavori al primo posto Cristina Ceccagnoli con una fusione tra sport e pace al secondo posto Giacomo Agazzi con una sua interpretazione dell'albero di pace al terzo posto Costanza Agea è incentrato sulla convivenza tra etnie diverse i disegni scelti partecipano ad un'ulteriore selezione distrettuale che comprende Umbria, Lazio e Sardegna con scelta di un'opera che parteciperà ad ulteriori selezioni nazionali ed internazionali alla fine nel corso del Lions Day alle Nazioni Unite che si tiene tutti gli anni a New York presso la sede dell'ONU viene premiata l'opera risultata vincitrice una manifestazione che consenta al suo giovane autore di parteciparvi insieme ai propri familiari e di percepire un premio di 5.000 dollari La scuola Mavarelli Pascoli si è sempre contraddistinta a questo concorso ormai sono dieci anni che noi proponiamo concorso e grazie alla dirigenza scolastica all'aiuto dei professori ogni anno la partecipazione degli alunni è massiccia e devo dire oltre che una partecipazione massiccia registriamo anche un'applicazione precisa, puntuale e molto sentita da parte dei ragazzi tant'è che negli ultimi tre anni la scuola si è classificata a livello di distretto cioè a livello di Umbria, Marche e Sardegna tra i vincitori del concorso Il concorso, il poster della pace è qualcosa che ogni anno ci accompagna da settembre fino al giorno della premiazione che avviene sempre in dicembre Per noi non è qualcosa che ci porta fuori, assolutamente noi la consideriamo come un compito di realtà un compito dove i nostri ragazzi mettono in campo tutte le loro abilità e conoscenze per realizzare con competenza un concorso che ha la grande e straordinaria capacità di coinvolgerli e di motivarli e di motivarli